Buongiorno, buon sabato, ben trovati a mattino 6. Partiamo subito con la nostra rassegna stampa, iniziando dai quotidiani regionali, dalle prime pagine, in particolare iniziamo dalla prima del centro di Pescara. Titolo di apertura, pneumologia verso lo stop a Pescara, reparto a rischio chiusura per i tagli all'ospedale. E poi all'interno del giornale scade il 30, il bando per il servizio civile, 600 posti da 433 euro al mese. E poi in Pescara, appello per i profughi, l'arcivescovo non si specula su chi soffre. E ancora denuncia dei residenti, Collepineta ha soffocato dalle erbacce. Andiamo a centropagina, con la fotonotizia. Maresciallo della Finanza, nuovo testimonial dell'AIL, corro per chi, come me, combatte contro il cancro. Il maresciallo si chiama Antonio Oro, ha 46 anni ed è il nuovo testimonial dell'AIL di Pescara e Teramo. E attraverso lo sport lancia un messaggio a favore della ricerca. Sotto la fotonotizia, servizio in bilico per i disabili, protestano le educatrici che assistono 100 ragazzi nelle scuole. Notizia che arriva sempre dalle cronache di Pescara. Adesso andiamo sotto la testata, perché domani si gioca la finale play-off d'andata tra Pescara e Trapani. Tutto esaurito all'Adriatico, la carica dei 20.000 per inseguire il sogno della Serie A. Ieri pomeriggio sono andati esauriti i biglietti. Lunghe code, lunghe file davanti ai botteghini. Poi più avanti vedremo anche un servizio su come è andata proprio la vendita dei biglietti nella giornata di ieri. E ancora basket di Serie B. L'Amatori cede in casa a Montegranaro. Avanti 2 a 1. Andiamo nello spazio delle idee. Cambiamo argomento. Dal voto indicazioni importanti. L'articolo di Gianfranco Pasquino, riportato nella prima del centro. E poi gli inutili piani Marshall per quanto riguarda invece l'ondata migratoria e la riflessione di Gian Cesare Flesca. Scendiamo adesso nel taglio basso della prima pagina del centro. Andiamo a vedere il Buongiorno Abruzzo, firmato da Domenico Ranieri, se il cinghiale va in visita ai defunti. Notizia che riguarda l'incubo cinghiali che continuano a imperversare nella nostra regione e che si sono recati anche nel cimitero di Celano spaventando le donne che in quel momento erano lì per curare i propri defunti. episodi che si ripetono in tutta la regione. Andiamo avanti con la lettura del centro. Passiamo alla prima di Chieti Lanciano Vasto. Beffa per i malati di cancro. Oncologia chiusa per il ponte senza avvisare i pazienti. E poi andiamo all'interno del giornale ancora la notizia del servizio civile. 355 progetti per 600 volontari under 28 retribuiti, come potete leggere, con 433 euro. E ancora protesta contro il DG Ateneo verso lo sciopero dei dipendenti. In Lanciano invitato picchiato, compleanno con botte, tre i condannati. A centro pagina, Vasto, fratture e ferite. Marina la scuola, 15 anni, cade dal tetto di un casolare. Si tratta di un ragazzo di Montenero di Bisaccia iscritto all'industriale Mattei di Vasto che è ricoverato in clinica pediatrica a Pescara per le ferite riportate nella caduta in un casolare abbandonato. E giovane insieme ad altri 4 amici ha marinato la scuola per visitare quella villetta quando è precipitato dal soppalco con un volo di 10 metri. E poi ancora la cronaca nera si schianta e muore a 40 anni ad Ortona vittima di una donna di Scerne grave l'altro conducente. Continuano gli incidenti stradali nella nostra regione. Saliamo adesso nel taglio alto. Stasera al Biondi è andata play-out il Lanciano all'assalto della Salernitana in palio una fetta di Serie B per quanto riguarda lo scontro salvezza. E poi finale play-off ritroviamo la notizia che riguarda il Pescara con i biglietti esauriti per la partita di domenica sera. Andiamo avanti ancora con il centro. Questa è la prima di Teramo. Aveva le agevolazioni senza saperlo. Montorio, donna malata di 76 anni, ottiene i benefici della legge 104 ma non riceve la comunicazione dalla ASL e lo scopre dopo 10 mesi. Io e la mia famiglia dice abbiamo perso tanti benefici. All'interno del giornale oltre alla notizia del servizio civile in Teramo alla stazione il parcheggio ora si paga e resta deserto e poi a Roseto domani si vota a piazze piene per i tre commizi di chiusura. Centropagine invece si torna nel capoluogo una bomba allo scientifico Einstein evacuati 700 studenti. Fortunatamente era un falso allarme. E in Giulianova sociale tagli da 300 mila euro a rischio l'assistenza domiciliare per anziani e disabili. Nel taglio alto sempre una notizia da Teramo si è risolta la crisi almeno per il momento la crisi al comune di Teramo nella giunta post crisi il regista Chiarini tecnico alla cultura ieri il varo della nuova giunta con i nomi degli assessori del Brucchi Terre. Poi la polemica l'escluso di Stefano Brucchi come Canà. Andiamo avanti dobbiamo vedere l'ultima delle quattro pagine provinciali del centro l'edizione Aquilana Scuolabus gara da rifare l'Aquila accolto dal Tarri il ricorso del consorzio escluso all'interno a Pescina ferma l'auto con le mani perde due falange poi l'Aquila pensionato sfollato a casa dopo sette anni a centro pagina nella fotonotizia Sulmona Monsignor Spina chiede aiuto a Papa Francesco la diocesi infatti a rischio soppressione arriva l'appello del vescovo al pontefice a 1500 anni di storia la diocesi di Sulmona Valva il cui territorio si estende su bene tre province quelle dell'Aquila di Chieti e di Pescara il vescovo Angelo Spina il collegio dei consultori diocesani ha lanciato un accorato appello a Papa Francesco e alla conferenza episcopale italiana e poi un'altra notizia che riguarda invece il lavoro arriva da Avezzano Vesuvius occupazione finita operai tornano a lavoro dopo l'intesa con l'azienda andiamo nel taglio alto il giorno della Marcord Avezzano calcio le vecchie glorie scendono in campo e poi 25 anni denunciato scoppia una lite tra due fratelli e spunta un coltello adesso passiamo al messaggero questa è la prima pagina dell'inserto Abruzzo elezioni test per 300.000 apertura dedicata alla tornata elettorale delle amministrative tornata che seguiremo anche noi di TV6 in diretta a partire dalla mezzanotte di domenica seguiremo tutta la nottata degli spogli per quanto riguarda queste amministrative con collegamenti in diretta dalle principali città in cui si vota Roseto Francavilla Lanciano Sulmona e Vasto e seguiremo anche da vicino San Giovanni Tiatino oltre agli altri comuni che andranno alle urne in questa tornata di amministrative e sono 72 le amministrazioni comunali come leggete dal giornale che vanno alle urne un test importante per gli equilibri politici regionali soprattutto nei cinque centri maggiori e poi ancora troviamo la febbre Pescara stadio esaurito in questa fotonotizia anche Galeone l'ex allenatore del Pescara sogna la Serie A allo stadio Adriatico Cornacchia domenica arriva il Trapani per la sfida d'andata che vale la promozione nella massima serie di calcio poi la sorpresa in questo richiamo da pagina 37 per Pettinari condanna da 200 euro buccia di banana per il consigliere regionale dei 5 Stelle Domenico Pettinari che rimedia un decreto penale di condanna da 200 scusate 200 euro credo che sia non 200 mila euro mi sembra un po' eccessivo per rifiuto di fornire le generalità alla polizia andiamo ancora avanti sempre a centro pagina della prima del messaggero cibo scadente niente acqua e la rivolta dei migranti blocco stradale a Torino di Sangro tensione con gli automobilisti e poi la cronaca nera schianto ad Ortona muore una donna l'abbiamo visto in precedenza Tiziana Deliseo 40 anni residente a Scerni è morta in un incidente sulla statale 16 all'altezza di Ortona nel taglio basso il Brucchi Terra con il regista si parla ovviamente della nuova giunta al comune di Teramo e poi di spalla un nuovo un nuovo management per salvare l'aeroporto l'affondo dell'euro deputata aiuto del Movimento 5 Stelle che rilancia sull'uso dei fondi pubblici per finanziare l'aeroporto approfondiremo più avanti quando andremo a vedere anche i nostri servizi nella seconda parte torniamo sul giornale nel taglio alto del messaggero Abruzzo il giorno e la notte Giulia Nova il gran finale del festival delle bande poi l'Aquila rinasce nel 2017 il restauro del ponte Belvedere e ancora Pescara l'inchiesta così vent'anni di inerzia hanno avvelenato il fiume andiamo adesso sulla prima della città del quotidiano della provincia di Teramo Brucchi Vara l'ha giunta con sorpresa questo è il titolo di apertura uno scranno in meno dentro tre nuovi assessori di cui uno tecnico alla cultura il regista Marco Chiarini e poi a centropagina evacuato l'Einstein Teramo falso allarme bomba 700 studenti a spasso troviamo ritornando alla notizia del varo della nuova giunta di Teramo l'editoriale di Alessandro Misson firmato giunta lifting e raffreddori ritorniamo a centropagina trasferita la cuoca di piano solare da metà aprile a scuola niente più episodi allarmanti e di spalle errori giudiziari il film sul caso Tony Lattanzi a due festival del cinema ad Albadriati che invece guerra aperta tra associazioni e amministrazione nel taglio alto sindacati di polizia chiedono misure adeguate alla minaccia degli assalti ai portavalori più armi e mezzi addestramento contro le bande dei portavalori ovviamente questa è un'allarme che si sta diffondendo tra gli agenti che si occupano della scorta armata nel taglio basso il calcio di Lega Pro Teramo Calcio promesso un mercato di qualità per fare contento il neo allenatore biancorosso Zauli andiamo adesso allo spazio dedicato ai titoli del nazionale con i principali quotidiani italiani partiamo dal Corriere della Sera profughi centinaia di dispersi l'emergenza in mare la tragedia a largo di Creta sulle spiagge della Libia recuperati 117 corpi naufragio con a bordo 700 persone salvi in 340 Mattarella il presidente della Repubblica la piccola Favur è italiana il riferimento ovviamente alla bambina che è arrivata sulle coste italiane la cui madre è morta durante la traversata e per cui si è scatenata una bella gara di solidarietà per adottarla il documento a centropagine in questa fotonotizia le immagini portate alla sede dell'ONU di Ginevra bombe turche sui curdi la prova in un filmato e poi le elezioni Renzi e le urne la vera sfida il referendum il centrodestra chiude con comizi separati andiamo avanti la Repubblica sfida di Renzi voto ai sindaci non al governo Grillo ci prendiamo Roma Salvini a Berlusconi perderà infatti il centrodestra a Roma va diviso da un lato Giorgia Meloni dall'altro Alfio Marchini e poi a centropagina la strage di Creta centinaia di dispersi Mattarella la piccola Favur e Italiana andiamo avanti ancora il fatto quotidiano si cambia tenore sulla prima del fatto consulta ora e corruzione concorsi pilotati nel silenzio dei media più gravi le accuse al giudice Barbera la procura di Roma è pronta a contestargli il reato ma i giudici dell'alta corte hanno garantie simili a quelle dei parlamentari lui dice di essere pronto a rinunciarci staremo a vedere cosa accadrà e poi domani si vota Giacchetti e i due Casaletti diventati villa con piscina ieri gli ultimi comizi in piazza per quanto riguarda Roma ma non solo anche gli altri comuni dove si vota Giravolte Benigni a Rodotà non mi schiero pochi giorni dopo si è schierato con il SIA referendum storie storie inedita del passaggio del premio Oscar dal no al ni al voto favorevole e poi da Parigi la Senna in piena paralizza Parigi sono migliaia gli sfollati non accadeva dal 1910 andiamo sul sole 24 ore si parla ovviamente di economia e allora lavoro negli Stati Uniti ai minimi da sei anni tornano i timori sulla crescita economica a maggio creati solo 38 mila posti il dato più basso da settembre 2010 mercati intenzione per le incognite sui tassi della Federal Reserve cadono le borse e l'euro balza ad 1 euro e ad 1,13 e poi elezioni domani alle urne 13 milioni di italiani 1.300 comuni comunali rush finale dei leader Renzi non è un test sul governo Berlusconi chiude a Roma Raggi in piazza senza Grillo andiamo andiamo avanti il messaggero Renzi il voto è solo sui sindaci chiuse la campagna per le comunali il premier per il governo la vera sfida è il referendum ultimi comizi Marchini con Berlusconi da Roma si cambia e poi Grillo solo in video per la Raggi a centropagine ancora la strage del Mediterraneo che Mattarella adotta la piccola favore poi le spese sanitarie gli sconti fiscali legati al reddito per quanto riguarda il fisco tesoro al lavoro per limare le detrazioni sul tavolo anche assicurazioni e trasporti il tempo si torna sulla notizia che abbiamo già visto in precedenza con la fotonotizia referendum Benigni coperto d'oro per lo show in tv no comment dalla Rai e dalla gente presta qual è il prezzo del sì e poi hanno parafrasato un famoso film di Benigni Johnny Stecchino è diventato Johnny il Lecchino il titolo principale però riguarda l'affittopoli scoppia l'affittopoli della provincia inchieste sui canoni ridicoli centinaia di appartamenti a partire da 71 euro al mese graduatori assegnazioni poco trasparenti incassato soltanto mezzo milione l'anno per quanto riguarda la prima del quotidiano romano il tempo passiamo al libero risparmiatori traditi si è fidato delle banche adesso vuole uccidersi salvato dai carabinieri dopo ore di trattativa aveva un milione e mezzo di euro in azioni di Veneto banca sono diventati 1500 euro nella sua situazione ci sono e ci sono ci sarebbero 200.000 famiglie andiamo ancora avanti il manifesto il titolo sulla fotonotizia hot stop un gioco di parole con gli hot spot che l'Europa vuole mettere in campo per gestire la situazione dei migranti andiamo a leggere la didascalia almeno nove morti e decine di dispersi nel naufragio a largo di Creta centinaia di migranti tratti in salvo e mentre l'Europa si arena tra muri e hot spot come vi ho detto in precedenza sulla spiaggia libica di Zuara il mare restituisce i corpi senza vita di 117 naufraghi a Lampedusa il presidente Mattarella apre il museo del dialogo e poi sotto la testata i fantasmi dell'urna l'incognita del non voto si tratta ovviamente della vigilia elettorale andiamo sull'unità adesso il quotidiano che fa riferimento al partito democratico 13 milioni di italiani domani alle urne per scegliere 1368 sindaci il centrosinistra a guida PD c'è da Trieste a Milano da Roma a Cagliari cresce la mobilitazione per battere destre e Movimento 5 Stelle e poi a centropagina necessariamente italiana riprendendo un virgolettato del presidente Sergio Mattarella migranti ancora stragi il presidente a Lampedusa adotta la piccola favor andiamo avanti il secolo XIX in Liguria piove torna l'allarme nubi fragili la paura e la rabbia galleria appena rifatta si allaga nello spezzino treni in tilt ovviamente ogni volta che ci sono queste piogge forti torna l'allerta in Liguria e nella parte alta della Toscana Genova retromarcia del comune sulla Movida intanto i locali aperti sempre fino alle 2 come vedete i problemi della Movida non riguardano solo Pescara e poi la vigilia del voto il Papa la Chiesa si impegni nella politica alta Renzi non sarà un test su di me a centropagina invece il porto di Genova dice addio al carbone andiamo sull'avvenire abbraccia concerte davanti al dramma l'Egitto non interviene la Grecia si muove tardi un barcone con centinaia di migranti naufraga a largo di Creta dopo l'allarme silenzio di ore tanti salvati ma si temono moltissime vittime ovviamente tornando sul problema dei migranti e poi a centropagina questa fotonotizia così i capitali cinesi si comprano l'Europa andiamo sul mattino Renzi non si vota per il governo il premier con De Luca rilancia valente attacca De Magistris la replica loro tra i militari io tra la gente per Napoli un futuro pazzesco da sindaco solo insulti ma al ballottaggio si parte da 0 a 0 ovviamente sul mattino fare i puntati sulle elezioni a Napoli e poi una notizia che ci introduce allo sport che andiamo a leggere fra poco sui principali quotidiani sportivi italiani cade in curva a 180 all'ora muore a 24 anni tragedia al moto mondiale vittima lo spagnolo Salom andiamo proprio sui quotidiani sportivi nazionali partiamo dalla Gazzetta dello Sport che ovviamente apre con quanto abbiamo visto in precedenza moto mondiale tragedia al GP di Catalogna morte in pista Luis Salom 24 anni ha perso la vita durante le prove via di fuga senza ghiaia l'incidente si poteva evitare si chiede il giornale il papà di Simoncelli dice se era felice i genitori non devono avere rimpianti ovviamente un ragazzo di 24 anni che perde la vita così getta insomma una luce diversa sul moto mondiale che comunque si correrà per quanto riguarda il GP di Catalogna così hanno deciso i piloti è chiaro però che è una gara che a questo punto interessa poco e a pochi sotto la testata assist di Kobe ai gol cinesi per l'Inter e Milan grande occasione Bryant prenderò casa in Italia ora amo scrivere poi Cianatown Tohir la firma questione di ore PESG su Mancini scendiamo invece nel taglio basso Ventura e Accordo martedì sarà il CT il nuovo CT azzurro e poi Juve Alves Berardi Ibra muo a un passo andiamo avanti il Corriere dello Sport un miliardo e mezzo dai cinesi Milan una cascata d'oro la Cordata è pronta a dare 600 milioni per il 70% del club 400 per il mercato 500 per lo stadio il patron onorario sarà Silvio Berlusconi e poi la tragedia al Montmelò muore a 24 anni tracciato sotto accusa Salom si schianta in curva contro le barriere di spalla ieri il tecnico a Roma nazionale per Ventura è quasi fatta martedì il nuovo commissario tecnico sarà ufficializzato Zazza Insigne che show intanto e poi parte la missione in Cina per l'Inter che va a Nanchino e diventerà del Suning firme annuncio entro lunedì nel milino spunta il baby Gabriel Gesus e poi trattative senza sosta con il Real la Juve senza freni vuole anche Kovacic in arrivo l'ex interista costa 25 milioni per quanto riguarda invece la Serie B troviamo la notizia che riguarda il Lanciano che gioca questa sera Salernitana a Lanciano in palio la salvezza su tutto sport il mercato bianconero Juve più Juve Marotta e Allegri delineano due formazioni pronte a battersi su campionato e Champions e poi Mia ai giovani sono il top per il mio toro intervista esclusiva a Beretta storico sponsor e tifoso Granata il ritorno di Parigini e di altri nostri ragazzi mi emoziona per quanto riguarda il Torino e poi Papasic che ovviamente sta per Simoncelli in moto si muore e destino la scomparsa di Salome dura da accettare ma è più pericoloso lo scooter su strada delle gare in pista è chiaro che i piloti in qualche modo accettano convivono con il rischio della vita quando decidono di correre sia in moto che in auto e allora ci fermiamo qui per quanto riguarda la rassegna ovviamente adesso apriamo lo spazio dedicato al meteo come di consueto con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org buongiorno a te Giovanni buongiorno Alfredo buongiorno a te e a tutti i telespettatori il tempo nel weekend a te allora la nostra penisola Alfredo continua ad essere interessata dalla presenza di masse d'aria fresca e di instabile che sono attualmente giungo dall'Europa centrale quindi mantengono attive condizioni di instabilità su tutte le regioni centro-settentrionali e lungo la dorsera peninica questa situazione non cambierà di molto nelle prossime ore e nel fine settimana perché la nostra regione risentirà appunto dell'influenza di queste di queste masse d'aria fresca che daranno luogo ad annuvolamenti già che già si stanno manifestando nuovamente in mattinata ma nel corso della giornata tenderanno a svilupparsi a partire dalle zone interne montuose addensamenti più consistenti che daranno luogo a formazioni temporalesche formazioni temporalesche che interesseranno il settore occidentale le zone montuose e poi si estenderanno tra il pomeriggio e il tardo pomeriggio anche verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico occasionalmente qualche fenomeno potrebbe interessare anche le località costiere ma saranno meno probabili insomma lungo la fascia costiera anche se comunque tra il tardo pomeriggio e la serata qualche sconfinamento potrebbe giungere anche lungo la fascia costiera in notata nella prima parte della giornata di domenica avremo un tempo inizialmente migliore anche se saranno possibili degli annuvolamenti però ecco poi nel corso del pomeriggio assisteremo a un nuovo sviluppo di addensamenti consistenti sulle zone montuose sul settore occidentale con possibilità di temporali che poi tendranno nuovamente ad estendersi verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico insomma una situazione che non guarirà presto Alfredo quindi continueremo a essere interessati dall'instabilità probabilmente anche nella giornata di lunedì anche se avremo un tempo migliore nel senso che l'instabilità pian piano si attenuerà lo farà però soprattutto tra martedì e mercoledì però probabilmente almeno alla luce delle dette attuali sarà una situazione temporanea in attesa poi di un nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche favorito dall'arrivo di masse d'aria fresca dai quadranti settentrionali masse d'aria fresca che se confermate favoriranno un peggioramento per gran parte della seconda metà della prossima settimana si tratta questa comunque di una situazione da confermare nei prossimi giorni tuttavia quello che emerge osservando gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici è che la stabilità è ancora molto lontana Alfredo e dunque mi pare di capire che per l'estate ci vorrà ancora un po' di tempo allora prima di salutarci torniamo sul sito internet di abruzzometeo.org eccolo qui messo in onda dalla regia di Gianni D'Areo ovviamente questo è il sito di riferimento per avere sempre gli aggiornamenti meteo in tempo reale e ancora la pagina facebook di Abruzzo Meteo eccola qui la vediamo in questo istante e poi la pagina personale di Giovanni De Palma grazie ancora Giovanni per essere stato con noi anche questa mattina ovviamente ti auguro una buona giornata e un buon fine settimana grazie Alfredo una buona giornata e un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 noi ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte di mattino 6 eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di mattino 6 torniamo alle notizie dalla nostra regione ripartiamo dalla pagina Abruzzo del centro un paginone per la verità che riguarda le elezioni i candidati più di 3.000 Abruzzo terra di politici la scelta non manca ai 276.000 cittadini chiamati al voto domani in 72 comuni sono 189 poche le donne a correre per le portrone di sindaco subito lo spoglio alla chiusura dei seggi spoglio che comincerà dunque alle 11 perché si vota dalle 7 alle 23 di domenica e vi ricordo che a mezzanotte partirà la nostra diretta per quanto riguarda questo election day che potremo però ribattezzare election night visto che lo spoglio si svolgerà in notturna seguiremo dunque tutte le fasi dello spoglio in diretta con i collegamenti dai principali comuni in cui si vota in questa tornata di amministrative qui vedete lo specchietto riassuntivo per quanto riguarda queste elezioni il comune più grande al voto in questa tornata è vasto che ha 38.747 abitanti quello più piccolo Carapelle Calvisio con soli 85 abitanti comuni sopra i 15.000 abitanti importanti perché è qui che si andrà al ballottaggio Francavilla al mare Lanciano Vasto Sulmona e Roseto e sono anche i comuni che seguiremo più da vicino durante la diretta e poi ci sono anche comuni che vanno al voto anticipato Celenza Sultrigno Pennadomo Castelvecchio Calvisio Sulmona e Pietra Camela i timori per l'astenzionismo e ora si spera nella tenuta dell'elettorato l'affluenza supera storicamente il 60% nei grandi comuni ma nei piccoli precipita vedremo se l'elettorato deciderà di andare a votare oppure sceglierà la via dell'astenzionismo la campagna elettorale ultime scintille di propaganda la partita e ovviamente sui grandi comuni comuni importanti anche per valutare la tenuta della politica regionale e gli equilibri che si determineranno positivamente o negativamente all'interno del Consiglio regionale in base al risultato elettorale andiamo adesso sul messaggero per vedere anche la pagina Abruzzo del messaggero al voto in 72 comuni 300 mila abruzzesi per questo test significativo per quanto riguarda le elezioni comuni davvero importanti in cui si vota anche se non ci sono i comuni capoluogo comunque si tratta di realtà importanti per la politica regionale un campione di amministrazioni di circa il 25% sfida interessante soprattutto nei 5 centri maggiori come vi dicevo in precedenza la piazza più interessante sul Mona dove il PD ha rinunciato a presentare il proprio simbolo i migranti intanto bloccano la statale 16 tensioni al viadotto sul fiume Sangro cambiamo cambiamo argomento e questa protesta perché chiedono cibo e acqua poi nel taglio basso da Alessandro e Zappacosta l'open day si farà ma non ora e non sarà gratuito per quanto riguarda il turismo questa è la notizia che arriva dall'Aquila andiamo adesso anche sulla pagina Abruzzo della città andiamo a vedere anche cosa propone la città nella sua pagina Abruzzo si parla di trasporti e di aeroporto nuovo scontro sugli aiuti di Stato l'eurodeputata 5 Stelle aiuto attacca la regione nel merito il consigliere D'Alessandro risponde con la retorica vertice da modificare per l'aiuto il modo per preservare i lavoratori è quello di cambiare il vertice perché non è all'altezza per il consigliere regionale il lavoro che attende un europarlamentare sarebbe del tutto diverso inoltre la grillina non aiuterebbe l'Abruzzo facendo anche un gioco di parole con il suo cognome allora andiamo a vedere ieri la conferenza stampa proprio dell'eurodeputata del Movimento 5 Stelle nei mesi scorsi lei anche in Europa aveva portato al tavolo di Bruxelles il problema dell'aeroporto d'Abruzzo suscitando però le aspre reazioni dell'Aggiunta d'Alfonso ma sì alla fine allora l'Aggiunta d'Alfonso se la deve prendere anche con la Corte Costituzionale con la Corte dei Conti e con tutte le istituzioni che hanno palesemente detto che i loro comportamenti sono illeciti e non rispettosi delle normative né italiane né europee perché se voi andate a leggere il contenuto di quello che dice la Corte dei Conti è esattamente il contenuto delle mie interrogazioni che ho fatto a gennaio avere per reazione da parte del Presidente di tutto il management anche dell'aeroporto una reazione così violenta nei miei confronti quando io ho semplicemente denunciato un illecito anzi degli illeciti perpetrati per anni questo significa che è una cosa sola che quegli illeciti vogliono essere perpetrati che anzi si va in Europa a cercare di giustificare quegli illeciti mascherandoli come atteggiamenti a favore dei cittadini abruzzesi e dell'Abruzzo le problematiche dell'aeroporto d'Abruzzo il futuro dello scalo aeroportuale d'Abruzzo di Pescara qual è la ricetta del Movimento 5 Stelle? perché va male lo scalo pescarese perché va male il turismo in Abruzzo quindi se non si mette mano a generare dei flussi turistici seri in Abruzzo che siano intermodali che comprendano percorsi e che siano pubblicizzati a dovere nel resto d'Europa noi questo genere di infrastruttura lo porteremo sempre a perdere perché faremo solo da transito e non porteremo reddito all'Abruzzo torniamo sulla pagina Abruzzo del centro servizio civile 600 posti a 433 euro nuovi bandi per i giovani fino a 28 anni in Abruzzo 355 progetti domande entro il 30 le proloco aprono a 59 volontari e poi fibra ottica di Stato gara infratelle per l'Abruzzo parte la fibra ottica di Stato nelle aree a fallimento di mercato vale a dire quelle in cui i privati non intendono investire il volo per Tirana si cambia incentivi l'aiuto va avanti abbiamo visto in precedenza il servizio e poi notizia importante domani sciopero autostrade foto alle auto che non pagano domani sciopero sull'autostrada dei parchi che gestisce la 24 e la 25 durante la stensione dal lavoro dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 e poi dalle 22 alle 2 di lunedì mattina i varchi con pagamento solo manuale potranno essere chiusi per l'assenza degli addetti alla riscossione rimarranno aperti invece i varchi con cassa automatica e telepass andiamo adesso alla pagina di Pescara la politica non giochi sulla pelle della gente così il vescovo l'arcivescovo di Pescara Monsignor Valentinetti che rimbrotta sospiri i pescaresi le nostre strutture sono aperte a tutti siamo a disposizione di tutti coloro che hanno bisogno da sempre diamo sostegno ai cittadini bisognosi l'oasi dello spirito non dipende da noi Don Marco Pagnello anche per i lavoratori di Attiva stiamo facendo la nostra parte aiutando molte di quelle famiglie ci stanno a cuore tutti così dice Don Marco Pagnello che si occupa della Caritas Pescarese poi balneatori in allarme ambulanti raddoppiati emergenza sociale ma un vigile rivela arrivano dal mercatino sfrattato sono tanti arrabbiati da soli non possiamo fare nulla e poi nel taglio basso mille firme in cinque giorni petizioni contro gli immigrati il centrodestra punta ad arrivare a quota 3.000 firme pneumologia reparto a rischio chiusura il PD lancia l'allarme per possibilità all'ospedale ma il direttore sanitario parla di ridimensionamento del servizio e poi sono 40.000 solo 40.000 euro per le spiagge dimezzata la cifra per rimettere la sabbia a sud e i lavori non sono ancora partiti per quanto riguarda il ripascimento nel taglio basso il comune è pronto a nuovi provvedimenti un altro stop al sanzificio se continuerà ad esserci puzza e poi scarichi nel fiume partono i controlli sulle fosse biologiche andiamo avanti ecco come Colle Pineta affonda tra le erbacce uno dei quartieri più esclusivi della città di Pescara assediato dall'incuria e dalla carenza assoluta di servizi residenti sono 10 anni che non vediamo un albero potato e poi i lavori spettano ai condomini Basile ai proprietari delle case di Borgo Marino non compete all'Ater intervenire qualche giorno fa siamo andati anche noi del TG6 a verificare qual è la situazione a Borgo Marino Sud continuiamo sulla pagina di Pescara corro per aiutare chi sta lottando contro il cancro e un finanziere di 46 anni che ha sconfitto il linfoma e il nuovo testimonial dell'Ail di Pescara e Teramo Antonio Oro 46 anni lo vedete in queste fotografie poi la barca pro da Pescara vela terapia il 12 giugno con Sognando Itaca nel taglio basso via Montebolza la strada contesa lite senza fine per l'utilizzo dei parcheggi di un condominio su un tratto privato continuiamo sulla pagina di Pescara stanotte in Italia la salma di Angelucci Alessandro Angelucci il docento diversitario di 34 anni morto durante un'escursione in Turchia dopo una caduta in un dirupo di quasi 50 metri la camera ardente per l'ultimo saluto ad Angelucci sarà allestita al Media Museum di Piazza Alessandrini per ora le uniche cose certe a conoscenza della famiglia dell'insegnante che non ha ancora avuto diciamo rassicurazioni su quando la salma rientrerà a Pescara probabilmente la camera ardente sarà allestita lunedì mattina assistenza scolastica rischio per 100 ragazzi con disabilità sono 45 le educatrici della Coop Polis che minacciano la protesta per non aver ricevuto garanzie lavorative scendiamo nel taglio basso vela per scafisti simbolo di legalità l'associazione pescarese Sail for Children da nuova vita alla barca dei clandestini e poi una notizia che riguarda il consigliere regionale Pettinari rifiuto di fornire le generalità ammenda per Pettinari dovrà pagare 200 euro per essersi rifiutato di dare la propria identità a un pubblico ufficiale passiamo alla pagina di Francaville dell'area metropolitana a Francaville al voto in 22.051 per il nuovo sindaco sono 4 i candidati li vedete nella fotografia Antonio Luciani Stefano Di Renzo Alessandro Mantini e Livio Sarchese ovviamente caccia gli indecisi dell'ultima ora primi cittadini in coda al comune per il ritiro delle tessere elettorali intanto a Francaville parte il ripascimento nella zona Alento scendiamo a centropagina sempre a Francaville trasporto gratis alle terme iscrizioni fino al 30 giugno e poi patto con la COP sia i parcheggi l'amministrazione dice no al Silos a San Giovanni Tatino si farà un'area di sosta a Raso vicino nell'area dei centri commerciali a Montesilvano la denuncia lite per diffamazione magliette e fotomontaggio Colangelo Querela Aliano il consigliere sovrappone il suo viso all'immagine dell'architetto con la fisarmonica scoppia la polemica sfilata di amministratori dai carabinieri per testimoniare e poi la protesta corteo sulla riviera contro le prostitute passeggiano tra le prostitute i turisti residenti di Montesilvano già dalle 21.30 accade sul lungomare dunque ci sarà una manifestazione di protesta il prossimo 10 giugno alle ore 21 nel taglio basso madre e figlia investite sulle strisce paura in via di Gasperi le due donne colpite da un anziano di Spoltore sempre a Montesilvano ragazzina di 10 anni soccorsa mentre fa il bagno salvataggio diciamo primo salvataggio della stagione estiva la pagina dell'area metropolitana stoppa l'accordo con Arca l'area resta abbandonata Spoltore la società rifiuta l'accordo con il comune per campo parco e parcheggi Febo denuncia mai pagati 1,7 milioni di euro di imun danno per l'intera città e poi il PD caccia i tre fedeli di Marinelli a Pianella il partito cancella Faieta Minetti e Pozzi che denunciano il centrodestra poi Montesilvano un concerto per ricordare il musicista Massimo Riva nel taglio basso rimpatriata della contrada di Spoltore l'orgoglio di abitale a Villa Santa Maria in 140 alla festa passiamo alla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara a Penne nell'ex convento ci saranno ambulatori e riabilitazione la fondazione Papa Paolo VI pronta a investire un milione e mezzo di euro per adeguare l'immobile di via De Cesaris ma serve l'ok da parte della regione Civitacuana cade dall'albero che stava potando 63enne in ospedale a Torre dei Passeri resta senza pensione e accompagnamento e denuncia l'Inps a centropagina Penne 11 mila cittadini alle urne 4 candidati si vota anche a Civitella Colle Corvino e Picciano per quanto riguarda l'area vestina in Val Pescara 6 comuni al voto 3 liste a Manopello e a Popoli centri più popolosi 12.437 i votanti siamo alla pagina di Chieti poi passeremo anche al messaggero mala sanità oncologia fanno il ponte malati beffati i pazienti contro l'asle inutili i nostri prelievi del sangue nessuno ci ha avvisati che il 3 giugno il reparto era chiuso esposto alla procura di Chieti per quanto riguarda questo caso e poi da Vasto Marina alla scuola e cade da un tetto studente ricoverato a Pescara si tratta di un 15enne di Montenero di Bisaccia e poi Donna Sischiante muore a 40 anni la notizia arriva da Ortona si tratta di Tiziana Deliseo che vedete nella foto che è morta per uno sconto frontale sulla statale 16 l'altro conducente è in rianimazione e poi a Chieti Ateneo dipendenti pronti a bloccare l'università con uno sciopero e avvertono non sarà di un solo giorno non contenti del rivia giudizio per diffamazione e violazione della privacy del direttore generale Filippo Del Vecchio le organizzazioni sindacali inviano una durissima nota minacciando lo sciopero generale passiamo adesso sul messaggero andiamo a vedere anche qualche notizia sul messaggero Abruzzo torniamo a Pescara sul fiume malato vent'anni di inerzia dal 1997 ad oggi le tante segnalazioni denunce inchieste non hanno determinato alcuna iniziativa reale per la bonifica dalle indagini della forestale è uscita una precisa mappatura degli scarichi abusivi i problemi di oggi sono quelli di sempre e poi la foto dello scandalo trasporto di sabili vivi vedete su questo furgone lo scatto che divide il web andiamo andiamo avanti per quanto riguarda la lettura del giornale passiamo adesso a vedere la pagina di Chieti così completiamo la lettura anche delle notizie che arrivano dal Chietino in cubo legionella nella notte la bonifica del policlinico dalle 20 di ieri al lavoro alla task force i reparti riforniti di acqua minerale agli atti dell'inchiesta anche la cartella clinica dell'anziana paziente morta e poi allarme per una perdita ortona resta senza gas grave emergenze inviando bosco evacuata la zona immediato l'intervento dei vigili del fuoco nel taglio basso il lavoro che uccide operaio morto alla ICO gli indagati sono due un dirigente della fabbrica e il titolare della ditta esterna X-Trade accusati di omicidio colposo per la morte dell'operaio di 44 anni deceduto dopo l'incidente avvenuto mercoledì mattina alla ICO di San Buceto il frontale l'abbiamo già visto in precedenza che è costato la vita a Tiziana Deliseo 40 anni che avrebbe compiuto martedì e grave l'altro automobilista forse un colpo di sonno alla base della tragedia e poi a Lanciano alle urne in 32 mila al voto per scegliere il nuovo sindaco e poi corsa a 5 per decidere il dopo la penna a Vasto andiamo sulla pagina aquilana adesso andiamo a vedere anche qualche notizia dal capoluogo Ponte Belvedere nel 2017 via i lavori per il recupero nessun dando per il terremoto ma dalle infiltrazioni d'acqua nel tempo il professor Dante Galeota i tempi previsti per i lavori non saranno lunghi poi Confcommercio e Comune sollecitano una task force per la Movida e ancora Parco della Memoria la giunta verrà l'appalto entro l'anno per Piazzale Paoli nel taglio basso stalking e farsi allarmi bomba negata la perizia psichiatrica è accusato di aver terrorizzato non solo la sua ex ma anche un'intera comunità dei residenti tra Bazzano e Paganica per gli allarmi bomba che hanno interessato nel tempo il plesso scolastico in cui lavorava la giovane malcapitata ieri almeno una decina i soggetti che si sono voluti costituire parti civili nel processo si tratta dell'Aquilano Stefano Di Gregorio di 38 anni ex operatore della Croce Bianca e poi Cip e Ciopp imputata chiede l'abbreviato il processo una delle maestre vorrebbe dimostrare che con i presunti maltrattamenti avvenuti nell'asilo non c'entra nulla ad Amiternum parte la nuova campagna di scavi fino a ottobre in campo una squadra di 20 archeologi e poi a Paganica liti e coltelli tra fratelli al progetto case ancora verso le elezioni se il centro-vestra vuol vincere c'è tempesta l'ex sindaco torna sulla scena il miglior candidato sindaco è Simone Coccia con l'aiuda andiamo sulla pagina di Avezzano sul Mona omicidio piccola svizzera il test del RIS depositata in procura alla perizia tecnica biologica per accertare chi ha ucciso Marco Callegari il primo imputato è Pietro Catalano ma l'ex buttafuori potrebbe aver avuto dei complici attualmente indagati la sparatoria avvenne per futili motivi anche un martello sul luogo del diritto a Celano cade dalle braccia della madre è grave un neonato la donna lo stava allattando a Sulmona collettore turistico procedura negoziata niente bando ma una procedura negoziata per il collettore turistico di Sulmona ancora a Sulmona elezioni l'ultimo sforzo dei candidati tour de force dei sei aspiranti alla poltrona luci a mezzanotte e stappa spumante come a Capodanno ancora da Sulmona pratica in ritardo baristi infuriati e poi ad Avezzano anziano esce di casa e scompare passiamo a Teramo adesso andiamo a vedere anche qualche notizia dal Teramano tornando sul quotidiano la città la nuova giunta Brucchi Vara la sua nuova giunta si tratta di otto assessori con un esterno chiarini andiamo a vedere il servizio a Teramo la giunta Brucchi da nove è scesa a otto con un assessore esterno che si occuperà di cultura il vice sindaco rimane Mirella Marchese con delega ai rapporti con le partecipate e pianta organica ed ecco nel dettaglio la nuova vecchia giunta di Teramo con cinque assessori già conosciuti con nuove deleghe e qualche new entry Eva Guardiani al sociale Valeria Missiconi urbanistica e patrimonio Franco Fracassa lavori pubblici Francesca Lucantoni pubblica istruzione Roberto Canzio commercio e sport Mario Cozzi manutenzione e ambiente il bilancio e il personale rimangono al sindaco Brucchi la cultura finisce ad un esterno che è il regista Marco Chiarini c'è una riduzione del numero degli assessori ci sono tre new entry che diciamo sono certo interpreteranno bene il loro nuovo ruolo e ci sono le conferme un pensiero a chi oggi diciamo ha dovuto lasciare un po' lo scranno di assessore la politica è anche questo e quindi diciamo però un saluto particolare affettuoso a queste persone diciamo per quella che è la maggioranza formato da 18 consiglieri c'è la volontà di andare avanti e di arrivare a fine mandato questo è l'obiettivo io li ringrazio per avermi sostenuto e per continuarmi a sostenere a sostenere il lavoro che questa città ha svolto perché vedete sarebbe stato davvero un peccato consegnare la città per un anno ad un commissario da dove inizierà? beh guardi io ho il solco già segnato da chi mi ha preceduto e quindi ringrazio anche l'assessore di Giovanni Giacomo è chiaro che ci sono dei lavori già in corso sul corso facciamo questo gioco di parole e anche altri lavori che inizieranno quindi ho dei lavori prestabiliti e mi dedicherò molto anima e corpo su questo considerando anche il periodo di crisi da dove appunto esce questa amministrazione come risponderà lei alla fiducia che le è stata oggi data? eh come diceva qualcuno lavorando 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 in considerazione di le sue osservazioni che lei ha fatto da consigliere in questi anni cosa farà? da dove inizierà? è evidente che il ruolo del consigliere non è lo stesso ruolo che farà l'assessore però credo di essermi abbastanza distinto per aver avuto sempre idee della proporre e spero e credo di continuare su quella strada chiaramente ho sententi protagonisti che è una cosa importante la cultura a Teramo specialmente negli ultimi anni è sempre stata una nota dolente ed è sempre stata criticata ora Marco Chiarini intanto perché ha accettato? solo per 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 il mio ego per il mio ego perché non chi lavora nella cultura chi lavora nel a contatto con il tessuto culturale di una città per forza di cose sente visceralmente una missione ma anche se fa il pittore della domenica comunque sente un afflato verso la ricerca verso il coinvolgimento degli altri e quindi era impossibile come penso sia impossibile per chiunque poter rifiutare un invito del genere a poter indicare una linea non come ho detto non a organizzare il singolo evento o a dimostrare la mia bravura nel organizzare una mostra a portare il cantante e farmi vedere insieme a lui a brindare ma nel dare un focus su cui tutto il resto dovrebbe convergere rapidamente ancora cronaca da Teramo l'allarme e bomba al liceo scientifico Einstein telefonata anonima al 113 fa scattare l'evacuazione di 700 studenti ma era solo una minaccia infondata a chiamare stato un uomo che parlava in maniera poco chiara indagini sull'origine della telefonata vedete le foto dell'evacuazione passiamo allo sport adesso con il calcio di Serie B in primo piano ed il Pescara in particolare che si giocherà l'accesso in Serie A contro il Trapani tutto esaurito allo stadio adriatico per la partita di domani 20.000 per l'assalto alla A file Botteghini squadra in campo con la formazione tipo con Memushai Torrera dall'inizio arbitra Luca Paeretto figlio d'arte uno dei candidati al salto di categoria ovviamente c'è la sfida nella sfida con l'ex allenatore del Pescara Serse Cosmi il centro titolo matrimonio consumato senza amore quello tra Cosmi e il Delfino lei intanto l'ex Cascione punta sui Biancazzurri per l'accesso in Serie A tante le code come detto ieri al Botteghino andiamo a vedere il servizio di Paolo Lorenzetti Siamo davanti lo store ufficiale del Pescara in via Regina Margherita come potete vedere alle mie spalle c'è gente per acquistare biglietti ma il cartello che è proprio dietro di noi dice che sono esauriti i biglietti di Curva Nord i biglietti di Curva Sud e di Tribuna Adriatica dunque solo Tribuna Maiella disponibile per questa partita l'attesa partita che si giocherà domenica tra Pescara e Trapani valida per la finalissima di andata dei playoff promozione in Serie A io dovrei andare in Tribuna Maiella fiduciosa per questa partita non è la prima volta che va allo stadio no no assolutamente no la signora pure in fila certo vengo da Lanciano ma io sono tifosa del Pescara da 50 anni Pescara rappresenta l'Abruzzo io sono fiduciosa ma domani bisogna fare subito tre gol perché Trapani è duro come stadio un grande Pescara la padulla splendido quindi siamo sicuri che ce la faremo speriamo di farci che dalle otto e mezza di questa mattina che stiamo facendo la fila speriamo di farci sono quasi arrivato ma i biglietti sono terminati solo le tribune quindi bisognerà spendere un po' di più probabilmente del solito ma per questo Pescara ne valerà la pena solo tribuna vi siete forse ricordati un po' tardi no no sto girando da stamattina ma non si trova da nessuna parte quindi ci mettiamo in coda e facciamo la fila però penso che tre ore sotto la pioggia per il Pescara possa valere no? ieri ho fatto la fila dalle quattro e mezza alle dieci data di emissione 22.05 al Porto Allegro ho fatto la fila e sono riuscito a prendere un biglietto per la curva a sud biglietti ovviamente che sono andati sold out il servizio era di ieri mattina ovviamente per tutti coloro che invece non hanno il biglietto e vorranno seguire la partita c'è Diretta Stadio con Andrea Costantini il collegamento in diretta con Paolo Renzetti dallo Stadio Adriatico domani sera per seguire la partita Diretta Stadio ci sarà anche questa sera per seguire il play-out del Lanciano il Lanciano con Turchi per una notte da Leone i rossoneri all'assalto della Salernitania in Palio la salvezza tante le polemiche in questo fine campionato per il Lanciano noi andiamo ad ascoltare le parole dell'allenatore Primo Maragliulo è abbastanza serena perché guardando i ragazzi come si sono allenati da questo punto di vista sono veramente molto sereno è chiaro che sono due partite importanti e determinanti al tempo stesso quindi non dico che ci sia tensione però molta molta aspettativa anche da parte nostra più che l'aspetto tattico in queste due partite prevedo sinceramente che si possano decidere sotto l'aspetto mentale perché è fuori discussione che chi starà meglio in campo otterrà il miglior risultato però io queste due partite le vedo veramente completamente diverse da quelle che possono essere due partite normali dove sicuramente non bisognerà sbagliare nulla dove bisognerà giocare palla su palla ma la squadra che sarà mentalmente pronta o mentalmente più avanti dell'altra sicuramente avrà dei grossissimi vantaggi errori se ne possono commettere diversi se non se non si entra con l'atteggiamento giusto in campo diciamo che questa è la prima cosa in queste due partite come dicevo prima bisognerà farne quanto meno possibili e pensare veramente che saranno due partite dove bisognerà giocare minuto per minuto senza senza pensare assolutamente ad altro giocare palla su palla chiaramente non cercare di scoprirti cercare di alla squadra avversaria di dare il meno possibile siamo davvero in chiusura ultima notizia che riguarda il basket finale playoff di serie B amatori imprecisa il tifo non basta pescaresi in serata storta ieri Montegranaro avanti 2 a 1 nella serie ieri amatori battuti 51 a 65 questa è l'ultima notizia della nostra rassegna grazie per averci seguito mattino 6 torna martedì alle ore 7 perché lunedì ci sarà la diretta elettorale che prenderà questo spazio e invece le edizioni del TG6 oggi alle 14 alle 19 e poi in serata alle 23 poi c'è diretta stadio ovviamente per seguire la partita della Virtus Lanciano contro la Salernitana che è decisiva per la salvezza grazie ancora per essere stati con noi questa mattina buona giornata grazie a tutti grazie a tutti